Posso dire che secondo me, rispetto alle altre trasferte che ho visto, tutte le sconfitte non è come le altre partite, considerate che si deve creare un'imposizione del gioco, che spesso la Roma non ha lontano dall'Olimpico, se fossero due squadre completamente diverse, ma io ho visto comunque qua una Roma che ha giocato con molta qualità il primo tempo e ha prodotto l'occasione buona, poi chiaramente noi palla lungo su Lukaku, anche stanno a sinistra, quando Paolo puntava a largo e la suona dei gatti, le avevamo messo un po' in difficoltà, per il secondo tempo l'hanno preso le misure, chiaramente se loro si avvassano al secondo tempo non c'è più partita, perché poi il muro di Torino è un muro solido, compatto e difficile giocare in quella situazione, in quella condizione, è complicato e, ripeto, e poi lì la partita al secondo tempo è calata, perché c'è più pressione psicologica e la Roma lì non ha ereto più come al primo tempo, è un gran peccato perché come qualità, come prestazione, è tutto positivo, il risultato non mi piace, ma, ripeto, se a fare un discorso complessivo, le abbiamo viste tante volte la Roma fuori casa, certamente è meglio di un'altra volta, ecco.